La sicurezza sul lavoro. In Veneto sono stati 33 morti dall'inizio dell'anno, con una media di una cinquantina di vittime all'anno. I settori più martoriati sono quelli dell'agricoltura e dell'edilizia. Le province più colpite è Vicenza e Treviso. Per fronteggiare questa emergenza l'impegno della Regione Veneto. Dopo due mesi di lavoro si è conclusa ufficialmente oggi l'attività promossa dal Presidente Luca Zaia, che aveva convocato un tavolo istituzionale con tutte le parti coinvolte. Ispettorato interregionale del lavoro, INAEL, Vigili del Fuoco, sindacati e associazioni datoriali. Tutti assieme hanno posto la firma al Piano Strategico Regionale 2018-2020 per la prevenzione di infortuni e malattie professionali in Veneto. Tutti gli interlocutori del territorio hanno firmato questo accordo, che non è un documento di intenti ma è proprio operativo, misurabile partendo dal fatto che la Regione assumerà 30 nuovi controllori dello Spisal, che si farà formazione, che si metteranno in contatto i nostri controllori con i responsabili aziendali, che andremo nelle scuole in ogni ordine e grado a parlare di sicurezza nel lavoro. Un business plan per la sicurezza nel mondo del lavoro, afferma Zaia. Il Veneto fa squadra e si candida a diventare laboratorio nazionale, visto il diretto coinvolgimento dei sindacati che per primi hanno posto l'urgenza di affrontare il problema. Perché un modello è il primo a livello nazionale, lo invierò ai miei colleghi presidenti delle regioni e tutte le associazioni lo manderanno ai loro omologhi a livello nazionale, quindi diventerà una rete endemica, una distribuzione endemica di questo modo di fare, mettere tutti assieme e poi operare. Un approccio concertato per la soluzione dei problemi, per tendere ad un obiettivo ambizioso. È fondamentale che ognuno dia corso i propri impegni, questo lo facciamo, la formazione, il tema del dialogo, le azioni di accompagnamento, i controlli, ma ricordate sempre che le sanzioni dei controlli noi le investiremo per assumere ancora controllori, il che non vuol dire che si giocherà a guardia e ladri, questo è un accordo chiaro ma vogliamo puntare a mortalità zero.